Spero di vedere miglioramenti dal punto di vista del risultato, perché per questi amichevoli c'è stato un ottimo processo, un ottimo progresso della squadra, sia dal punto di vista fisico che dal punto di vista tecnico. Non sono arrivati i risultati in queste amichevoli, ma per vari motivi. Abbiamo giocato con squadre le prime non semplici e poi abbiamo pagato delle disattenzioni dovute secondo me al fatto che con questa storia del mercato aperto qualche giocatore è disattento, distratto. E' importante che la squadra ha avuto dei progressi importanti, dei miglioramenti in queste partite, quello che conta. Naturalmente adesso i punti contano e mi aspetto e spero di che iniziano a venire i risultati. Ci stiamo preparando, non è che ci siamo preparati in meglio di altre volte. Noi ci alleniamo ogni giorno al meglio che possiamo. La squadra, io non credo che ci vorrà tempo per vedere la squadra, ci vorranno partite. Siamo all'inizio. Io ho parlato con i ragazzi, gli ho detto, forse non staremo al top, ma non è quello che conta. Portare a casa le partite non serve a volte giocare bene. Portare a casa le partite ci vuole personalità. E quindi a prescindere da come staremo, la cosa che conta è andare su con la mentalità giusta, con la mentalità a giocarci la partita e giocarcela fino in fondo. Ecco, questo è quello che mi aspetto. La difficoltà della gestione si è vista nei secondi tempi, in questi amichevoli che abbiamo giocato. Perché abbiamo fatto anche con il Napoli un ottimo primo tempo e poi il secondo tempo che non c'è stato il giusto approccio. Ma capisco i ragazzi che in questo momento hanno la testa altrove. E la stessa cosa con la fermana, un ottimo primo tempo vincevamo, poi il secondo tempo non c'è stato il giusto approccio. Però, ripeto, la difficoltà sta proprio questa, nella cura, nei dettagli. Questa è stata la difficoltà nelle amichevoli. Però ci ha fatto capire chi è pronto e chi non è pronto. E quindi già da domani si porteranno avanti i ragazzi che sono più pronti. Per gli altri non significa chiudere la strada. Per gli altri significa avere più pazienza. Perché alcuni possono andare in condizione psicofisica prima, altri dopo. Di positivo, di molto positivo, c'è stato che abbiamo capito che determinati ragazzi sono più avanti rispetto ad altri. K'è infortunato, ha avuto una piccola contusione a ginocchio. Di Matteo, ha avuto una contusione alle costole. E Cianci e Minelli. È una partita importante, è una partita che conta e che vogliamo iniziare bene. Non vogliamo iniziare bene. Queste partite ci sono servite molto. Ci sono servite molto per capire. Adesso però non è più tempo di... Adesso bisogna che... Cioè, iniziamo a raccogliere, insomma. E per questo io non voglio andare a giocare una partita con ragazzi, magari che in questo momento sono un po' più indietro. Perché uno li metterà in difficoltà. E due, magari la squadra in questo momento deve acquisire fiducia, deve acquisire consapevolezza. Ecco, questo è quello che mi preme.